Allora, benvenuti nel nuovo video del canale Smart Contract, un video che fa il punto della situazione dopo due mesi dalla nascita del gruppo su Telegram, il punto della situazione appunto per capire se questi investimenti che abbiamo fatto insieme stanno andando bene e male, cosa è andato bene e cosa è andato male, la domanda che ci vogliamo porre era se avessimo investito 1000 TRX in tutti i progetti proposti qui, quale sarebbe stata la nostra performance media oggi? Allora, per rispondere a questa domanda abbiamo messo qui in questa tabella i vari progetti in ordine cronologico, l'approfitto o la perdita e poi alla fine vediamo se il risultato sarà positivo o negativo. Qui abbiamo marcato in rosso quelli che sono dati male, in verde, quelli che sono andati bene. Qui è stata fatta anche una media di profitto per tutto il gruppo nei vari progetti perché chiaramente era impossibile avere una percentuale di rendimento o di perdita uguale e precisa per tutti in ogni progetto, perché c'era chi entrava un po' prima, che un po' dopo, che investiva magari, che usciva magari in alcuni anticipo che rimaneva, diciamo che qua è stata fatta una stima. Allora, partiamo con Tron2get, è stato un po' il primo vero progetto che è stato fatto insieme, scusate ho un po' la tosse. Allora, Tron2get, qui di nuovo è stata fatta una media perché so che alcuni del gruppo sono stati finiti in leggera perdita, sono entrati dopo, io personalmente ho fatto un buon profit, però ero entrato prima, altri sono ci di più o meno in pari, per cui diciamo che per sintetizzare non c'è stato né un profit né una perdita, globalmente a livello di gruppo con Tron2get. C'è stato Tron3x che pagava un per cento, anche due per cento al giorno, sembrava tutto perfetto, poi hanno avuto un Scam, poco prima che si arrivasse a recuperare il cento per cento, diciamo, parliamo qui circa di un venticinque per cento di perdita, quindi se avessi investito mille in Tron3x qua ne avrei persi duecentocinquanta, quindi è così che va letto questo grafico, diciamo, grafico, questi colon, poi c'è stato Tron3x che finirà finito più o meno in pari, poi però bisogna anche calcolare che c'è stato un airdrop, abbiamo dato un token fast che aveva comunque generato quello, in realtà è stato poi il profit, questo in Tron3x che stiamo parlando di un 11 per cento, poi Tron2x è andato abbastanza bene, sempre per chi è entrato abbastanza presto, anzi, qui anche qui ho fatto un po' una media perché so che alcuni hanno avuto un profitto un po' più bassi, ho preso in cui ho stato, peraltro tra i primi, io ho stato circa il 90 per cento, che poi era morto tra i due, poi era risuscitato, quindi si è potuto fare un altro libro, quindi complessivamente più o meno stiamo parlando a livello di gruppo di un profitto del 70 per cento, poi qui arrivano un po' di note dolenti, sono arrivati un po' tutti uno dopo l'altra, abbiamo iniziato con SwissX, dalla backdoor, qua perdita totale dell'investimento, poi ci sono stati Sharktron, Shark DeFi e Liontron, tre note dolenti, altre tre exit scam, bisogna dire qua per fare una stima a livello di gruppo del profit, cioè una perdita in questo caso, bisogna dire più o meno che in Sharktron per un paio di settimane, 20 giorni quasi, si è comunque prelevato, si è potuto prelevare giornalmente i token che venivano farmati e quindi si è potuto recuperare quasi tutto l'investimento, in Shark DeFi che è entrato un po' dopo si è recuperato un attimino di meno, però comunque le perdite alla fine sono state leggermente contenute perché comunque per diversi giorni non si è potuto comunque fare il claim del token, dei daily token, Liontron invece appena entrati sul taboo, è stato lo Scalix e Scam, quindi perdita totale. Poi siamo passati alle piattaforme di staking, anche qui poca fortuna, con DSP, appena siamo entrati noi poi c'è stato l'attacco di DOS del tacco all'informatico alla piattaforma, abbiamo dovuto fare il cancel stake, si sono persi i token, si è riusciti a recuperare qualcosina, la piattaforma ancora in vita, ma qui stiamo calcolando più o meno tra DSP e Galaxy, perdite dal 70 al 90% circa dell'investimento iniziale, e Galaxy è un progetto che da subito è partito male con il DEB che non ha dato seguito a praticamente niente, si è subito persa fiducia da parte della community. C'è stato un altro piccolo progetto, anche se qua in realtà io l'ho aggiunto, ma era come una scommessina di Tron che poi in realtà non ha mai partito, qui diciamo meno del 100%, per comunque giusto aggiungerlo. Poi c'è il Shuriken che è una piattaforma che ha lo scopo di minare prima il Shuriken, poi Katana, poi un altro ancora. Anche qui c'è stato un problema all'inizio perché non si poteva fare il withdraw, praticamente noi dopo siamo entrati e siamo usciti da questa destraforma, praticamente senza né guadagnare né perde. Poi ci sono stati altri progetti minori e qui delle scommessine, però sono andati male, Nord Finance, Snack, che con il token che si è subito, che doveva essere un token deflattivo, che doveva rivalutarsi, ma invece si è andato a valutare, quindi male sia uno che l'altro, Nord poi era una specie di scampo da questo. Aton Bank, questo qui era un altro progetto che è venuto un problema perché c'è stato anche qui un attacco informatico, quindi poi in cui hanno iniziato a fare withdraw, la cosa buona è che si poteva comunque facendo withdraw si recuperava l'85% dell'investimento, quindi qua la perdita comunque è stata minima, però stiamo parlando di un'altra perdita. ecco qua, quindi c'è stato un periodo molto brutto per noi, in effetti, tanti progetti è andato male, poi c'è stato Aurora Credit, che ha avuto, che si poteva prelevare l'1% al giorno, poi abbiamo fatto per una settimana, rinnovabile a una seconda, questo comunque ha funzionato, quindi il profitto complessivo è stato il 14%, RON Solid, anche qui un altro problema perché sono entrato poca gente sulla piattaforma, c'erano delle balene, hanno iniziato a fare dei withdraw, purtroppo si è riuscito a recuperare solo il 50% dell'investimento. Poi, passiamo alle note migliori, è stato Trondex, che era un po' una scommessina di un giorno, che è salito e sceso nello spazio di 24 ore, alla fine siamo usciti con un 20% circa di profit, poi ci sono state altre piattaforme di staking, qui ho messo col punto esclamativo, perché i progetti non sono ancora finiti e quindi il profit che ho messo qui a destra è una stima, ma considerando che ancora riceviamo delle reward, dei dividendi dal mettere in staking il token. Allora, c'è stato CSE che è andata molto bene, si vedeva da subito che c'era voglia degli sviluppatori di sviluppare, di portare avanti bene questa piattaforma, con dei progetti che hanno creato una down charge, purtroppo poi non hanno dato più tanto seguito, adesso sta un po' calando anche CSE, però perché entrava subito, calcoliamo più o meno un 300% di guadagno, quindi per mille TRX investiti se ne potevano tirare fuori 4 mila, quindi un profit totale di circa 3 mila TRX. L'audoacque, anche stessa cosa, ha subito un buon profit, un pochettino meno di CSE, ma stiamo parlando anche qui di attorno al 250%. E2X, anche qui ho messo un po' una schima, perché attualmente dopo una tundicina di giorni siamo arrivati al 60-70% di recupero dell'investimento, il progetto comunque andrà ancora avanti e si conta più o meno alla fine di arrivare col tempo al 200%, se non anche di più di recupero, di più o messo una schima, un po' l'atterisco, perché chiaramente il risultato finale si dovrebbe vedere, lo dovrei fare tra un anno, allora ci sarebbe risultata la performance definitiva. Quindi sono ancora rimasto, diciamo, basso, ma visto che ancora stiamo parlando comunque di un progetto che non è terminato, è meglio rimanere bassi e adesso come per il 200%, quindi mille TRX investiti ora mi davano 2 mila di guadagno. Ho usato Tron Guru, un progetto che è cresciuto lentamente, alla fine si è usciti circa un 15% di guadagno. Fini Tron 2, guardate, allora qui ho messo 0-0, cioè né profit né termine, come Tron2Get, come Shuriget, perché anche qui ho fatto una stima, perché c'è stato qualcuno nel gruppo, perché c'era stato segnalato di stare attenti al balance, perché ci saremmo arrivati tutti insieme a fare il withdraw, o di fare un withdraw, chi aveva fatto il withdraw è uscito con 5-10% di profit, chi non l'ha fatto è uscito, ha perso tutto. Quindi anche qua ho fatto una stima e ho messo una media a livello di gruppo, ho messo né vincitori né vinto. C'era anche Tron Hope, un altro progetto che purtroppo non ha avuto abbastanza adesione sulla piattaforma, ha fatto poca gente, è una perdita. Siamo quasi alla conclusione, ho messo ancora 3 progetti, di nuovo ho messo l'asterisco, perché non sono ancora terminati, però ho fatto una proiezione di come dovrebbero terminare. Sono PassShark, Ronatron e Base Protocol proprio sull'ultimo in cui ci avessi coinvolti. E qua stiamo parlando di circa profitti che vanno da 200 al 300%. Con una torna all'1% al giorno, poi il PassShark sta già, ma anche con i referral, cosa si chiama dei referral, sono già recuperando il 70% circa dell'investimento, si dovrebbe arrivare alla fine ad ottenere un profit di 200%. Mentre in base, già per chi è entrato nella pre-sale, i token che venivano dati sono già solo con i token ricevuti si poteva ottenere un profit, poi con il rebase c'è stato un altro profit, quindi anche qui si è fatto un po' una stima del profit del profit che si poteva generare, e stiamo parlando anche qua del circa il 300%. Quindi, totale investito, se ci fosse partecipato a tutti i progetti, 27.000 TRX, profit o perdita, guadagno o perdita, ebbene, e alla fine stiamo parlando qua, in questa tabella Excel ho fatto, vedete che qui c'è, ho messo una barra delle formule, la somma da casella E4 a E31, E4 è da qua, da Tron2Get, fino a Base Protocol, facendo la somma, quindi, diciamo, calcolando tutto quanto, si arriverebbe a, totale investito 27.000, profitto 8.140, rendimento medio, che si calcola appunto, che si calcola appunto, dividendo questa colonna, dunque la, quella di fare investiti, molti, moltiplicando per cento, si arriva a un rendimento medio circa, punto totale, del profit, o perdita, diviso numero di progetti per cento, diciamo, un rendimento medio di circa il 30%, e tutto questo senza contare, che non sono entrati nel canicolo, Tronchain, T2X, Finitron 1, Tronex, che, eh, questi quattro progetti, hanno, per chi inizia, entrava subito in Tronex, o in Finitron 1, o anche in T2X, oltre che Tronchain, che comunque, ancora adesso valida, generava un ulteriore profit di questa cifra, quindi non ho poi calcolato, un rendimento medio, se aggiungevo anche questi progetti, se sono arrivati qua, anche al 40%, con rendimento medio. Quindi, tutto questo per dire che cosa? Chiaro che, se alcuni, so che sono entrati solo in alcuni di questi progetti, alcuni di questi marcati in rosso, si sono ascoltati, e giustamente dicono, qua non si guadagna, o, eh, non, eh, è difficile fare dei profiti. È normalissimo, eh, pensare così, ma lo scopo di questo, eh, video, di questo calcolo, era di far vedere che, diversificando, diversificando ed investendo, una stessa cifra, ma sono mille TRX, che è comunque una cifra alla portata, per ogni progetto, si poteva, comunque, alla fine, arrivare a ottenere un rendimento medio, molto interessante, nonostante, nonostante tutti gli exits che hanno, di cui siamo andati incontro, nonostante, eh, avessimo poca esperienza, siamo, eh, nelle piattaforme di staking, per esempio, si è visto quali sono, che hanno pagato bene, erano anche quelle che avevano più, eh, progetti, che, il team di sviluppo, ha, non si è dato più da fare, mentre quelle che sono andate male, gli STB di Galaxy, hanno anche quelle che sono, eh, proposto meno, eh, negli contratti ROI, vediamo che, in generale, quelli che sono andati bene, eh, erano quelli più sostenibili, perché, vediamo, TronX 2, c'era una reinversione automatica, ROI, credi, stanno parlando di 1%, eh, Fastshark, Tron, stesso Tron Guru, era, un, comunque, una crescita molto, molto, sostenibile, lenta, poi, se guardiamo anche Tron Chain, comunque, tutti i contratti che danno 1% al giorno, forse era solo TronX, il primo, che, dava dei rendimenti assurdi, ma, quella è stata l'eccezione iniziale, perché non c'era ancora, eh, l'euforia, e, nessuno ha ancora ben capito come funzionavano questi ROI, eh, ecco, guarda, se adesso il video qua, se no, diventa lunghissimo, era giusto per far vedere che diversificando, diversificando in vari progetti, pur, andando incontro a tanti fallimenti, alla fine, basta trovare quelli che, offrono, soprattutto le piattaforme di staking, vediamo, tra l'altro, il momento giusto, con la piattaforma di staking giusta, con i produttori che si danno da fare, si riescono, o, provando i progetti giusti, tipo, base protocol, se vedremo quanto è anche con WISE, si possono ottenere degli ottimi ritorni, che, anche del 200, il 300%, che, possono, che permettono, quindi, di ribilanciare, ogni tanto, quando c'è, qualche, progetto che non va, come, come, come ci si aspettava, in generale, voglio dire che, i contratti ROI, ultimamente, quelli che funzionano, sono, veramente, quasi, istituzionalmente, quelli che danno, una percentuale fissa, giornaliera, e, dove non c'è un hold bonus, un sistema, comunque, di, 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 fare costantemente, e, ecco, questo tipo di contratto, stanno, un po' cadendo, anche la, la comunità ha perso, un po' di fiducia, quindi, tenere, contratti, puntare su contratti ROI, che offrono, una percentuale, un, un, per cento al giorno, scegliere, le piattaforme di staking giuste, scegliere, i progetti giusti, tipo base protocol, o altri, in futuro, adesso si parla anche di non fusible tokens, puntando su questi tipi di, 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 di investimenti, diversificando in questo modo, si può benissimo ottenere, dei rendimenti, medi del 30%, o anche più alti, se poi, appunto, con l'esperienza, si sa, quando entrare, con qualche progetto, scegliere, di punto, diversificare, e poi vedere se c'è un progetto che va bene, se può anche investire di più, questo è, appunto, l'insegnamento che ci ha dato finora, da, tutto il, il percorso che abbiamo fatto finora, e, quindi, bravi a tutti coloro che hanno, risposto correttamente, a questo, tutto. grazie, Grazie a tutti.